Ciao ragazzi sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video di Nioh 2 Allora sono reduce da una notte di allenamento In cui ho cercato di perfezionarmi e di potenziarmi un po' Ho preso un paio di livelli e sono adesso pronto ad affrontare il boss Con un po' più di convinzione L'unico problema è che sono in crisi, crisi vera Per quanto riguarda le armi Allora nella notte ho avuto appunto modo di sperimentare con diversi armamenti Differenti rispetto alla doppia katana Mi piacciono tutti Mi piacciono tutti Cioè la lancia è meravigliosa L'ascia è meravigliosa Ho provato la katana singola È meravigliosa anche quella Non so dove sbatte la testa Quindi adesso io andrò con la lancia A provare a fare il boss E sperando che la cosa sia gestibile Portiamoci dietro qualcuno Livello 19 Ok ecco Andiamo 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 Tanto per gradire Ecco ci portiamo Ci portiamo qualcuno Riusciremo a superarlo alla prima botta oggi Visto che mi sono un po' potenziato forse Ok Ho fatto un minimo di allenamento nella notte Spero che l'abbia pagato In qualche modo Bene La mia compagnia è stata meravigliosa Complimenti vivissimi Per la partecipazione E il supporto Soprattutto Non so come avrei fatto senza di lei Mi sta a gonfiare Comincia benissimo oggi Dai 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 Ok Mamma mia No eh Vabbè cominciamo in maniera abbastanza così Ecco ti metto all'angolo così forse Ok Siamo messi discretamente bene L'ho lisciato Benissimo Perché sono partito dal presupposto che ci sarebbe stato Mamma mia Vabbè Ho l'impressione che pure oggi Finisce come ieri Ma Ne devo curare Ne devo curare Allora Ho due Oggetti di cura Ok Bennercia la miseria Non so come io abbia fatto A salvarmi Ma è successo Sì Ok Sta buttando bene Ok Calma Calma Ok Calma Ci sia È lì lì È lì lì Calma 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 T'ho fregato A sto giro Calma Gli devo Gli devo dan colpo Gli devo dan colpo Sì Non ce posso credere Alla prima botta Oggi Eh Questa Bella lezione che mi ha lasciato Sekiro Quando sei troppo Eh Poco concentrato Prenditi una notte di riposo Prenditi una notte di riposo E tornerai più forte di prima E ha funzionato Pazzo che fatica ho Dunque Bene Non avrei mai mangiato di finirla alla prima botta oggi Vabbè È tutto qua Sì Abbiamo preso già tutto Mi pare vero Sì Voglio procedere Madre santissima Che fatica Incredibile Sì Non si può fare un'esplosione. Il fatto che il nostro cuore è stato di farlo. Oh, non? Non si può fare un'esplosione. Non si può fare un'esplosione. C'è un esempio che non è l'assetto Devevi un attenziale per la miglia di aiuto E cosa vuoi dire? Voi? Voi vori al merito di pazienti Voi diventare un grande mezzo Voi diventare il amano Voi dire Nient kello che credo Eragutare Voi che vogliamo un'altra miglia di aiuto C'è un po' Non è possibile. Se è un amico, io non mi sembra che sia una amica. Qui è un vicino... Riu... Riu... Zeno... Ehi... Mi chiede. Ehi... 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 Non è così... Se adesso ci vediamo, Vieni a giurare la tua. Oii... Ma va a fare come le pare... Ehi... A un certo punto... Sta lì a pregare... Non compete a Marcellino, su... Ma miseria Vabbè allora abbiamo superato un primo piccolo ostacolo Immagino ci saranno altri molto più imponenti e invalicabili Ma noi li valicheremo tutti Perché se ho superato Sekiro di certo non mi faccio fermare da Nioh 2 Per quanto sicuramente complesso Allora Quella donna non era affatto un samurai ma quindi chi diavolo era? Beh a giudicare dalle mosse era sicuramente qualcuno che vorresti al tuo fianco Possiamo comunque dire di aver soddisfatto la richiesta del maestro Dozan Ma non è il caso di fermarci Dobbiamo accapararci altre pietre dello spirito E dovremo anche stare molto attenti Ho il presentimento che troveremo altri guai sul nostro cammino Conto tu di te Iddy Ma io non me voglio chiamare Iddy E' terribile Iddy Vabbè allora Nuclei d'anima purificati e pronti per la romanizzazione adesso Ecco io questo qua Dico la verità Mi piacerebbe assai Questa mossa col 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 tornado di fuoco Al posto di questo Taglio demolitore Che c'ha un raggio d'azione ridicolo E che quindi vorrei sostituire Bene Allora Detto ciò Dunque la via del guerriero No vizio Vabbè Hai ottenuto saggezza astrale A sufficienza per sbloccare alcune abilità metamorfo Hai ricevuto i seguenti titoli Eeeh Santo cielo Allora Io vorrei Se è possibile Hai sbloccato le seguenti funzionalità Vabbè Titoli non ci interessano Hai soddisfatto tutti i requisiti necessari per un titolo Vabbè Non mi interessa il titolo Se posso sapere Il livello della tua reputazione è cresciuto Hai ottenuto punti presigio Nella finestra titoli Puoi vedere un ripeto con i tuoi punti presigio Sì Ah non fissa questi titoli Allora Eeeh Io vorrei Qua è una missione principale Santora della vipera Livello 15 Qui è una missione secondaria Che farò a tre camere spente Così mi alleno Qui è una missione secondaria Sempre secondaria Vabbè Allora Eeeh Partiamo 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 Dall'equipaggiamento Giusto Ma io Io mi ricordo Che si potevano fare delle cose A fine livello Adesso se mi date un attimo Guardo Eeeh Ad ogni modo Intanto diamo Diamo un'occhiatina Acciaio nero no Va bene quello che abbiamo Martelli vari Uuuu Bella Vabbè Niente Si diceva Per l'appunto La mia difficoltà nel Nel Scegliere l'arma Non Non ci riesco Non ci riesco Stanno uscendo fuori Delle armi Talmente belle Talmente Efficaci Talmente Talmente Tutto meraviglioso Che dici Sai Ma perché Privarsi di tutto ciò Eeeh Dunque Elmo Delo Iorikiri Consumo Recuro di vita Automatico Questo ci piace Ecco E' particolarmente Utile Poi Corazze varie Diciamo che qua Guadagneremo un po' di robustezza E di resistenza contro il fulmine E anche il critico Andrebbe a guadagnare Poi Qui niente Cinta Dello Iorikiri Sto con un peso eccessivo Adesso cercheremo di sopperire Attraverso Il resto Poi Specchietto Specchietto Ci da più vita E il rosario Furtività Danno alle spalle Vita più 13 Ambrita ottenuti Danno alle spalle L'ho ottenuto Rilascio Nuclei No Già Ce l'avevo No Allora Allora Mi conviene questo L'abaco Tra tutti quanti Adesso vorrei capire Un secondo Perché Io ricordo che c'era Un modo Spirito guardiano No Va benissimo Apprendi abilità Qui c'era una caterva Che dovrebbero Che dovremmo approfondire un attimino Titoli Famo sta cosa di titoli Così è contento Ottieni prestigio dai titoli Puoi ottenere bonus prestigio Impiegando i punti prestigio Dopo aver selezionato un bonus Il suo nome nell'enco Se l'ha sostituito E potercigliene un altro Ah Allora Quindi Durata e forma Yoga prolungata Sì Ne spendo uno Assolutamente Poi Rilascio L'ucleid anima Sì Un pelino In più Anima Sì Ambrite ottenuti Sì Ho fatto bene Prestigio Unghio Prestigio Agio Allora Oro ottenuto Velocità Recupero chi Chi Mazza quanta roba La salute massima Efficace Elisir Assolutamente Chi ancora di più Oro ottenuto Vita Io punto tutto sul chi Efficace Elisir Oro ottenuto Ma è normale Che mi dia tutti Sti punti Chi va bene Vita Va bene Rilascio Che paggiamento Giusto un paio Magari L'ho ottenuto Ecco Efficace Elisir Poi Ok Abbiamo Abbiamo finito Lista titoli Coraggioso Marcellino Il coraggioso Però mi da punti Deputazione Un botto De più Allora aspetta 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 Se ci sono tutti Sti titoli Uccisore di Gachi Ah ma semplicemente Mi da i punti Deputazione Ma non è che io posso Equipaggiarne uno In questo momento Vabbè Quindi Attieni prestigio Va bene Quindi Noi da qui Soltatemi un attimo Che guardo un paio di cose Perché vorrei Fondere i nuclei Se riesco Allora Ci fondiamo Questi qui Enchi Per averne uno Un pochino Più potente Questa è una buonissima Una buonissima mossa E poi Non ho altre Altre cose Ne ho sbloccati un paio Ma Questo pure Non è male Ma Livello nucleo 2 Allora Allora Armonizza Noi mettiamo Questo qua E va bene Ma se io volessi Volessi Cambiarli Non potrei Non qui Almeno Riti del riposo Vabbè Questo lo faremo Poi Eventualmente Intanto Potenziamoci Un secondo Abbiamo La possibilità Di farlo Con un livello Solo E potremmo Mettere Qualcosa Che influisca Sul Chi E anche La katana Visto che Mi sto buttando La Ok Poi Fabbro Ecco Questa è la cosa Voglio Saperne di più Ah no 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 Per carità Non adesso Dunque Crea un nuovo Equipaggiamento Dai materiali Aumenta il livello Dell'equipaggiamento Modifica lo stile Del tuo equipaggiamento Migliora gli effetti Speciali dell'equipaggiamento O scomponi Vabbè Compra e vendi Intanto Vendiamo un po' di roba Allora Vendo un po' di roba E ci rivediamo Tra un secondo Allora Qua la maggior parte Delle funzioni Sono ancora Abbastanza Lontane da noi Perché per dire Tempra Io non posso fare niente Non mi è chiarissimo Come gestirlo Per cui per adesso Mi sono limitato A vendere la roba In eccesso Però devo capire Cosa mi convenga fare Qua magari mi rivolgo A chi ne sa di più Di Nioh Di me Conviene venderle le cose Conviene offrirle In premio Aikodama Che conviene fare Comunque per adesso Va bene così E dunque 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 Io andrei A questo punto Senza grossi preamboli A iniziare La missione principale Nuova Perché tanto poi Le missioni secondarie Le farò io Per cui Ah Non promette nulla di buono Iddi Sembra che le forze Del successore di Dozan Yoshitatsu Si era organizzando Un assalto Si dice che Dozan abbia subito Perdite pesanti E che ferito Si sia ritirato Nella sua proprietà Girava voce Che le cose 3-2 andassero male Ma sta accadendo Tutto troppo in fretta Deve esserci sotto Qualcos'altro Cioè nonostante Dozan è un alleato Importante Aiutarlo ci farà comodo Facciamoli vedere Di cosa siamo capaci Why not Why not Vediamo che succede Comunque Bello Mi sta piacendo Un botto Cioè tra i vari Souls like Dell'ultimo Bienio Diciamo così È sicuramente Uno dei più Riusciti Dei più Bilanciati Sotto tanti punti di vista Veramente Un buonissimo Prodotto Me l'aspettavo Un po' più piccolina Sta spada È un attimino Greve Vabbè Vediamo come butta Comunque Allora Carissimo Io intanto Ho un piccolo problema Ovvero L'equipaggiamento Troppo pesante E le skill Da sbloccare Per cui Allora Io intanto Ho sbloccato Un paio Di Di abilità Legate tutte All'uso Della guardia Per cui in guardia Posso fare qualcosa Qua poi Fare il brodo Di galla Che aggiunge L'effetto benefico Alle armi Poi preparare L'abilità Jutsu Acquisite Con prepara Jutsu Nel menu Santuario Gli oggetti Jutsu Preparati Diventano Consumabili Vabbè Ok Poi Con l'ascia Potremmo Potremmo Sbloccare Ruota il corpo E la tua ascia Perché no Se siamo Circondati Potrebbe essere Utile Poi Abilità Samurai Impugnatura Bassa Impugnatura Alta Impugnatura Cambiare Impugnatura Mentre il ritmo Chi è in fase Positiva Mentre la quantità Di tiro Vabbè Io non cambio Mai Postura Per cui è inutile Che lo sblocco Poi Quella del Metamorfo Conferisce All'onda D'urto Generata Attivando la Forma Di Un elemento Determinato Dal tuo Spirito Guardiano Riduce il Consumo Della Barra Della Forma Yukai Nel 10% Quando esegui Gli attacchi In forma Yukai Sì Assolutamente Sì Poi Riduce il Consumo Della Barra Forma Yukai Nel 10% Quando subisci Della Forma Yukai Sì Assolutamente Sì Bene Così Un'altra Poi Magia Magia Onmio Che fa Consente di provare Talismani Dell'acqua Fuoco Purezza E fulmine In onore di 6 kg Fulmine Dai Bene Poi doppia katana La mia Amatissima Doppia katana Impugnatura Bassa E Impugnatura Alta Missione Completata La via Della Quella Novizio Devo 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 Sbloccare Questa Missione Che per adesso È bloccata Per cui Devo fare Anche quello A telecamera Spenta O su twitch Insomma In base ai tempi E Andiamo Io Quasi quasi Un compagneros Ma tutti Straforti Vabbè che tanto Ho visto Ho visto Nei miei Sbagliati tentativi Di Di Completare La boss fight Ieri Che Il livello abilità Del compagno È praticamente Inutile Io sono sempre Pesante Però Diamine Andiamo un attimino A risolvere Il discorso Pesantezza Datemi un secondo Ok Ci siamo Sono in grado Di intendere Di volere Adesso Ale Sto facendo Un po' Fatica A padroneggiare Questo discorso Del ritmo Key Però Piano Piano Allora Allora Là c'è Il solito Amico Andiamo con la lancia Va Mazza quanti si è Ehi Chi è? Ah Il simpaticone È lassù Vabbè Sono caduto Vabbè Ci vado Ci vado con qualcuno Lì Eh Ok Bene Ripasso Io odio La telecamera Ok Ok Un attimo Ah no Ah no Fermi Fermi Due volte Allora Uno Frecce 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 Che potrei Usare Non c'è Nessuno Su cui Usarle Benissimo Sarà Dura E tempestosa Ok Bello Allora Più che altro Ho notato che Il ritmo Chi Si Riattiva Con un Perino di ritardo Rispetto a quando La logica Lo imporrebbe Teoricamente Ok Se n'è accorto Mi sa Eh Non so Ascordare Per fare Il ritmo Chi Ok Eppure Questa È È Fatta Ok È È È tutto Troppo Semplice Per il Momento Qualcosa Non torna Quando posso Evitare Preferisco Evitare Che livello 22 Dai Si può fare Possiamo Possiamo andare Insieme Ho questa piccola Regola mia Di Dover andare In giro Con Compagni Più o Meno Del mio Livello Rende La cosa Più Più Normale Alla Devo Calarmi Visto che lei È reattivissimo Io approfitterei Dalla sua Disponibilità Ecco Cinque frecce Posso risalire? No Perché Il giorno che Il mondo del game design Scoprirà la capacità Di fare uno scalino Nei giochi action Sarà un gran giorno Ma non è questo Il giorno Ecco C'è il guerriero Che muove 800 cose Che lui fa Lui La lancia Però non gli mette Di fronte Uno scalino Di 10 centimetri Perché Non riuscirà A superarlo Allora Con chi ce l'hai? Mi sono bloccato Ok Andiamo a occuparci Di costruire Criamo la nuova Skill Bello Ma gli è arrivata La botta? No Credo di no Massa quanto è forte Calma Io so Tre ore Che mi sto a curare E se non la prendi Però Ah e beh Tipo la versione Di mio Eh sì Vabbè Buonanotte Pure il fucile Sul braccio C'ha Poi Ah c'ha anche la lancia Giusto Il falcione Bene Benissimo Benissimo Allora Allora Si diceva Si Diceva E qua Ok Allora Non fa praticamente Niente Sta cosa Riusciamo ad aprirlo In due No Con molta calma È più forte Del boss Prima In sostanza Trovo la cosa Assai spettrale Fa più danni lui Del boss Prima Oh Oh Vabbè Detesto i mini boss Li detesto Ah Bene Eppure qui Abbiamo Liberato Tutto Quindi Sì Questo Soldato Aberrante C'ha un nucleo d'anima Che deve essere La cosa più bella Del mondo Da usare Allora Ma basta Ok Eppure qui Abbiamo fatto Tutto Poi Io ormai sto provando Anche i muri Perché nel livello precedente Me ne è capitato uno Che era tipo Un mostro muro Cioè a forza di picchiare Il muro si è trasformato In un mostro Ed è stato Particularmente Affascinato Ah No No ce n'è un altro Ve prego Basta Con questo Non si è poca A far così No Non è come quello di prima No Precisamente Meno forte Di quello di prima Un attimo Ok Ok Il level design Non è malvagio Eh È strutturato Piuttosto bene A dire la verità Ah Ah già stiamo Stiamo avanzando Troppo velocemente Secondo me Ok Il soldato Il soldato Abbarrante Cosa fa Spara Metti 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 Non si butta via niente Ma per carità Eh ragazzi Io direi che per adesso Giusto qua Ecco Potremmo vedere qui Per adesso Potremmo fermarci Insomma è stata È stato un episodio Illuminante E È successo Un sacco di roba Nel prossimo Mi auguro Che le cose Vadano altrettanto Spedite Perché oggi A dire la verità Grossi problemi Non ne abbiamo avuti Giusto Un paio di momenti Ma Niente di trascendentare Dunque abbiamo Un livello solo Da poter usare E Lo mettiamo Sempre su Cuore Sempre su cuore Marcellino Un persoggio di cuore Ah Scusate E Niente Ragazzi Per adesso Ci fermiamo qua Fatemi sapere Consigli e suggerimenti Come sempre E noi ci vediamo domani E noi ci vediamo domani E noi ci vediamo domani E noi ci vediamo domani